Eccoci di nuovo su Half-Life! Impendiamo il gioco? Impendiamo l'avventura? Questo non è un gioco, questa è la vita vera. Sì, è vera, non dobbiamo morire. Una bella granitola, perché ho avuto questa idea? Ma sono idiota, sì, 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 dillo, dillo. Ok, basta. Basta. E mori, ammazzato. Pezzo di stronzo. Ok, calmati, eh. Calmaci. Calmati. Basta. Pist hide. Oh, figlio di... Di una madre elettrizzata. Di una madre elettrizzata, vi ha fatto figli elettrizzati. Basta, però io mi sono ferito. Un occhio è partito. Oh, no, il teschio. No, andiamo in mezzo con uno. A uno? A uno. A uno. C'è qua chi ne? C'è qua chi ne? C'è qua chi ne? C'è qua chi sto... C'è qua chi strange? Gli ingesioni Ma a cosa dovevo andare? Andiamo di qua Salta qui Saltò qui Saltò qua Saltò qui Saltò là Perché non posso saltare? Perché? Non lo so Perché? Non lo so Perché! Perché non posso saltare? Non lo so Perché mi metto la voce così? Non lo so Come vai? C'è un altro treno là però c'ho letto treno perchè c'ho la foce cosi? non lo so ma dici sempre non lo so eeeh non so da inca eh no via ok cos'è? figlio di putegna c'ho uno stronzo la sopra figlio di di una gran cazza attenzione in condizioni critiche dieci siamo a dieci perchè non posso passare? aspetta forse no salta e poi salta eccooo ciuccia ciccia l'hai caduto con le granate ah si mi servirebbe però un po' di salute io sto male sto male 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 da morireee attiviamo la schifezza qua no perchè voglio vedere cosa abbiamo qua dentro scusami ma io voglio vedere cosa c'è qua dentro non ci staremmo oh la bomba solo che non l'abbiamo mai usato salta e ci 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 ah ci abbiamo fatto ci abbiamo fatto ma questo è l'altro treno questo è l'altro treno ok riuscirò riuscirà il nostro eroe a mettersi nel treno ok possiamo andare no 0 4 5 5 6 6 6 5 6 un po un po un po un po un po un po Buona 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 Che ci dice di salute? Buona 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 io direi proseguire per la putregna figlio di una putregna putrefatta bantarda scusate per la putregna non volevo dirla dove sei stronzone figlio di una cagna putrefatta prendi una granitola una granitola dove la butto? e dov'è? dimmi 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 che ci ho spappellato ci ho spappellato ci ho spappellato ahahahahahahahahah possiamo terminare qui credo ah 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 fa culo fammi salire fammi salire shhhh morte di utente imminente dai 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 a culo amore figlio di di una madre spappolata tutto ci ho spaccato a tutti dai oh poverino si accasciato si accasciato da me il mitra bastardo dammi il mitra bastardo ok siamo prima di qua abbiamo eliminato tutta la squadra quella la ora proseguiamo col trenino da me il grande potente odds il super grande galattico magico super amico scusa gli ho dato una copitata mentre facciamo così grande potente odds no non tu che sei io sono grande potente odds e io mi segui scusa ti ho spuntato ti ho spuntato ok mi segui ciao ciao ciao